Perché accompagni con la grazia dello Spirito il suo servo Giustino, chiamato a guidare i suoi fratelli. Cristo Pietà, Signore Pietà, Signore Pietà. Signore Pietà, Signore Pietà. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Michele Manno Vittoriosa dell'Altissimo, prega per noi. Santi Angeli, fedeli Messaggeri del Signore, prega per noi. Giovanni Battista è il più grande fra i nati di Dio. Giustino, prega per noi. Giustino, prega per noi.